Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Perché non vorrei essere identificato come un detrattore di questo bellissimo titolo, perché ho già detto che io sono un grande fan di Harry Potter, ho letto tutti i libri, tra l'altro in età adulta, e mi sono piaciuti tanto, i film, i libri sono più ricchi, senza dubbio. Il gioco l'ho pensato tantissimo, escludendo tutti i difetti che ho elencato nel precedente video, vi voglio parlare prima di tutto dell'atmosfera, l'atmosfera è veramente bella, e la suddivisione dell'avventura, non in capitoli, ma in una sorta di meccanica, io non voglio spoilerare, quindi non lo farò, Però la meccanica è bene o male quella di svolgere delle missioni secondarie legate alle principali, e poi svolgere le principali, fino ad arrivare a una sorta di prova che sancisce anche il passaggio di stagione. Ora, abbiamo volato, la volta scorsa con la scopa, ora vogliamo con l'ippogrifo, altro animale magico, meraviglioso, per farvi vedere anche la bellezza del paesaggio, delle valli di Hogwarts, con la neve, perché ora siamo più o meno a metà gioco, credo metà gioco, forse un po' più di metà gioco, Insomma, mi dà l'idea di essere ancora parecchio lungo, però l'aspetto è decisamente, decisamente cambiato. Tra le parti positive, posso dirvi che, nonostante i problemi all'equipaggiamento, la voglia di potenziare l'equipaggiamento, una volta che entrate in confidenza con le varie caratteristiche che potete legare agli oggetti, Quindi, vi fa sì che voi avete un modo di giocare, io ad esempio mi piace tantissimo l'incantesimo fiamma, e quindi io vado generalmente a prendere un equipaggiamento nuovo, e poi lo potenzio con l'incantesimo fiamma, dopo lo andremo a vedere. Altra cosa molto importante, molto carina, che è un'attività secondaria, ma che è legata comunque a, diciamo, queste secondarie, la cattura degli animali, perché in questa missione io devo prendere un Deericold con un sacco acciuffatutto, quindi io adesso vado a prenderlo, ed è una sorta di raccolta Pokémon, vedete che loro scappano, Io potrei rendermi invisibile e cercare di andare a prenderli. Allora, vedete che c'è il simbolino di maschio o femmina, li potete far accoppiare, e quindi andare a creare sempre più animali, animali che potete vendere a un negozio che poi li mette in salvo, oppure utilizzarli per prendere, Uh, ho un Inferius, l'ho qua vicino. Posso fare Petrificus Totalus? Sì. Ok, e lo eliminiamo istantaneamente. No, dicevo, li potete far riprodurre e poi da ognuno di essi magari ottenere i materiali, che vi servono per potenziare l'equipaggiamento. Tra l'altro io qua... Allora, vediamo un attimo. Qua mi fa pensare che ci sia qualche puzzle, forse. Vediamo se trovo qualcuno. Vabbè. Eravamo venuti qua a prendere il... scusate, faccio passare il tempo, perché non c'è questo difettuccio, non c'è l'orario di gioco, ma c'è soltanto il giorno-notte e che la giornata vi scorre davanti. Adesso proviamo a catturarne uno, sperando che non... Eh, devo settare bene... Quando ne trovo... Arresto Momentum e poi lo catturiamo. Così, F... 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 Eh, me ne ha targettato un'altra. Dobbiamo inseguirlo. Mi tiene conto, vedete, di quello che ho fatto. Ho preso un... Un Dereco. Adesso, non ho visto se l'ho preso maschio o femmina. Insomma, la missione mi chiedeva di prenderne uno. Ora dobbiamo prendere un Rospo. Ma in realtà, se io andassi a prenderne un altro, lo potrei liberare nel mio... Nell'habitat che ho nella mia... Eh, nella mia zona privata. Adesso vi faccio vedere la cosa che si può fare. Allora, andiamo nella mappa di Hogwarts. Andiamo qui. E vedete che, ehm... C'è la zona che, probabilmente, vi avevo già mostrato. Eh, e adesso vi faccio vedere anche il discorso dell'ecapaggiamento, come mi è piaciuto molto. Allora, praticamente, qua abbiamo la zona con le mangiatoie che ho iniziato a mettere. Poi si potranno sbloccare anche edifici che vorrei mettere. C'è una casa da trovare in giro per il mondo. Eh, io adesso vado su, eh... La possibilità di piazzare oggetti e piazzo, eh... Il recinto di riproduzione. Lo mettiamo, magari, qui. Lo giriamo così. Eh, così. E poi dovrò spostarlo perché ci voglio piazzare la casetta, ma va bene. Una volta piazzato, possiamo andare a vedere gli animali che abbiamo all'interno di questo recinto, di questo mondo, diciamo. E vedete che possiamo far riprodurre i puffskin e gli snaso. Eh... Faccio i puffskin e vedete che l'habitat all'interno si crea ed è bellissimo. 30 minuti e avremo un piccolo di puffskin perché abbiamo all'interno di questa zona due snaso, maschio e femmina. Abbiamo due puffskin, anche maschio e femmina. Alcuni hanno questo tatto qui, che è un più, che non so cosa sia ancora, ma credo sia una cosa, diciamo... Una caratteristica speciale, magari, che ci dà più risorse. Poi, come detto, qua noi possiamo andare e dargli da mangiare, pulirli e prendere la risorsa che loro hanno da... Ecco, questo posso interagire. No, perché l'ho appena fatto, tra due minuti lo potrò fare di nuovo. Col puffskin, stessa cosa. Gli ho già dato da mangiare da poco. Questa stanza delle necessità è un'altra cosa bellissima. Si espande continuamente, si aggiungono sempre nuove stanze, quindi io non voglio spoilerarvi nulla. Allora, vi faccio vedere anche, ad esempio, io ho l'equipaggiamento, che ha tutto, vedete, danni inferti con incendi aumentati. Io sto potenziando quello, ma ho il cappello, che ovviamente è un classico e non riesco a potenziarlo. A livello 25 potrò prendere questo. Posso usare questo. Questo qui, vedete, che è viola, ha una difesa migliore, ha un 56, quindi un 10 in più di quello che ho. lo prendo e dopodiché vado qui, sto sbloccando, andando avanti, facendo secondarie, sempre più tratti. Quindi, ecco, un incentivo, nonostante i difetti detti in un altro video, dell'esplorazione è trovare appunto questi tratti. E adesso vado, prendo questo cappello con pelo, lo seleziono, faccio visualizza caratteristiche e posso prendere quelli che ho sbloccato. Me ne mancano ancora tantissimi. Io ho scelto di non usare le arti senza perdono, insomma. Potete rifiutare quando volete, insomma, e poi non lo avrete più. Non lo imparerete nemmeno, quindi, Caruccio, io ho scelto di non fare un personaggio buono, anche se il sistema di moralità non c'è. Danni infatti con incendi aumentati, vedete, io mi chiede pelo di puffskin che stiamo riproducendo, quindi potremo aumentare la produzione. Io adesso lo scelgo e la caratteristica viene impressa nell'oggetto. Dopodiché, premendo il tasto destro, possiamo potenziarlo fino a tre volte. Piuma di Jobberknoll lo uso, lo potenzio, e mi aumenta l'attacco. Ora mi chiede piuma e pelo di snason, che anche quelli posso farli riprodurre con un relativo recinto, e poi mi chiede Verrucche di Erospo che il Erospo, come vedete qui, il Erospo viola gigante, è un altro animale che dovremo prendere, quindi la storia ci guida con le secondarie a prendere le varie cose. Qua poi tra l'altro sto producendo a nastro pozioni di cura perché mi servono tantissimo. Adesso ne metto in produzione una, ne metto in produzione un'altra, e abbiamo 15 secondi in totale e poi ne avremo altre due, quindi ne ho 14 adesso. Vedete, ho prodotto un potenziamento al mio oggetto, al mio cappello, che adesso, vabbè, vendendolo vale 150. Insomma, i soldi sono molto utili e se ne fanno pochi, quindi bisogna esplorare un altro incentivo all'esplorazione. Adesso che facciamo? Andiamo fuori, vi faccio vedere un'altra cosa. La scuola, tra l'altro, non l'ho ancora esplorata tutta, cioè io ci ho passato un pomeriggio ad esplorarla completamente, piena di segreti, comunque cose da trovare. Se, appunto come a me, l'atmosfera di Hogwarts vi piace tantissimo, insomma, vi metterete lì e lo farete anche a tempo perso. Lo potete fare anche alla fine del gioco, quindi penso che tante cose le farò a fine gioco. Ora, le giornate sono più corte e meno luminose, quindi d'inverno non ha quelle belle giornate assolate. Prendo la scopa questa volta perché la trovo un po' più veloce e vedete che l'ambiente è veramente bellissimo. Se lo confrontate col video fatto in precedenza è molto molto bello. Altre cose che mi stanno piacendo tanto, la progressione nella storia è molto schematica, quindi avete magari un professore che vi vuole insegnare un incantesimo, però vi dice prima farmi questo compito e il compito generalmente può essere anche l'usare determinati incantesimi in combattimento, l'usare determinate pozioni, tutta roba molto semplice. Fate quello, incontrate delle secondarie e le fate, non sono eccessivamente difficili ma sono carine. Una volta che avete fatto tutto io mi concentro quando non ne trovo più perlomeno non ho voglia di andare a esplorare altre secondarie, cercarne in giro, faccio la quest principale. La quest principale è parecchio lunga perché ci sono varie quest che alla fine si concludono con il finale di quel filone di quest principali che poi porta a una prova e porta al cambio di stagione. C'era stato prima fine estate poi l'autunno adesso l'inverno. Bello mi piace il senso di progressione che vi dà perché comunque l'integrazione del nostro personaggio siamo nel fine 1800 come un personaggio che entra nel quinto anno e deve apprendere a riportarsi in pari con i compagni è fatta veramente molto molto bene. Quindi su questo nulla da dire. ci sono tanti misteri che devo ancora risolvermi si vede che questo personaggio come giusto che sia ha delle peculiarità dei talenti superiori ai ragazzi della sua età perché comunque a lui vengono diciamo riservati dei compiti abbastanza importanti anche se all'oscuro magari di tanti insegnanti della scuola mi sta tenendo impegnato anche per quanto riguarda le attività secondarie perché comunque tra adesso giustamente vediamo vi faccio vedere all'interno della scuola abbiamo da trovare delle perle che ci consentono di potenziare dell'incantesimo di Alu Mora quando noi troviamo un tot abbiamo le pagine della guida che tante volte ci danno informazioni storiche su determinate cose che si vedono nei film o si leggono nei libri abbiamo quelle due cose lì abbiamo i tavoli di astromia che comunque ci danno oggetti nella mappa generale ci sono appunto le prove di Merlino che anche qui una volta che ci chiederà una foglia di malva che coltiviamo nella nostra stanza delle necessità quindi la stanza delle necessità ha la sua grande utilità vedete quante prove di Merlino quando ne sblocchiamo prima poche poi andiamo avanti in numero sempre maggiore si sblocca nuove cose nell'inventario ci sono i viaggi veloci quindi si può andare qui si possono farmare nemici si possono visitare negozi ulteriori che vendono cose che in altri paesi non vendono quindi guardate adesso dopo quasi 30 ore io ho esplorato questa zona qui ma vi dico la verità che quando ho esplorato questa zona qui questa zona qui e qualcosina di questa fino qui più o meno poi ho sbloccato la scopa e ho smesso di camminare quindi io volendo anche zone che io ho già visto per quest posso andare e troverò tante cose non luttate ancora questo va bene me lo riscordo però tutta questa zona qui l'ho vista di sfuggita ma non e questa zona qui tutte queste zone qui non le ho viste guardate quante cose da esplorare ci sono ancora probabilmente si andrà verso fine gioco perché poi ci sono anche dei livelli insomma quando andate oltre che non non potete superare insomma se non siete di un certo livello qua ci sono altre cose ancora da esplorare i residui di magia antica ci sono dove ci sono i simbolini della zampa animali fantastici magici da catturare e quegli animali li vendete poi al negozio della fiera delle fiere insomma e ci vengono dati i soldi e non è un bracconaggio insomma ma è un mettere in salvo gli animali perché c'è una minaccia globale insomma e bla 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 poi vabbè è incredibile quanto camminando andando in giro vi 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 troverete sempre più a vostro raggio all'interno della scuola perché capirete quali sono i luoghi ho trovato addirittura la gabbia in cui avevano chiuso Sirius nel nel terzo capitolo nel terzo libro nel terzo film soprattutto perché si si vede lì poi vi trovate sempre queste cose che dite ma devo accenderlo non devo accenderlo tante volte li dovete accendere vi sbloccano cose noi adesso siamo in una zona che mi era preclusa perché non avevo l'incantesimo di cura e in questo caso io vado a scoprire un altro elemento di storia e altre cose che vedete qua all'interno e qua si lega a quello che abbiamo detto la volta scorsa altre pagine vedete devo trovarne 50 io so che questo poi mi fa questa cosa qui e mi sblocca un'altra pagina in questo caso senza la descrizione ma che comunque va nel collezionabile qua abbiamo una serratura di livello 2 quindi dovrò potenziare quel discorso dell'Alo Mora e per potenziarlo bisogna girare di notte perché le sfere si vedono solo di notte e una volta che ne trovate un tot vi potenzia l'incantesimo livello 2 poi livello 3 questo ve l'ho già detto ma è giusto per analizzare evitando spoiler quindi non vi parlo della storia quello che c'è da fare all'interno del gioco quello che c'è da fare che comunque nonostante tutto nonostante lo scoramento che ho avuto all'inizio vedete adesso ho trovato altri oggetti potete trovare anche questi fogli che vi danno informazioni che non centrano con la storia ma vi immergono ancora di più nel gioco quindi al netto dei difetti che io ho visto la volta scorsa di cui vi ho parlato nonostante questo per cui comunque ci ho messo un po' a smaltirla questa delusione diciamo perché non mi incentiva ad esplorare alla fine mi sono reso conto che comunque un minimo incentiva perché quello che sblocchiamo a parte il completazionismo che comunque dà sempre soddisfazione il completazionismo premia anche a livello di gioco premia a livello di medesimazione e comunque nel farlo avete comunque dei vantaggi che comunque vi facilitano l'andare avanti non voglio che poi il mio precedente video passi come una una critica per andare contro corrente contro quello che tutti stanno dicendo no diciamo che come rilascio è stato assolutamente sorprendente questo di Hogwarts Legacy sì perché erano tanti scettici c'erano tanti scettici ma alla fine sono stati smentiti tutti il gioco è un gran gioco la migliore realizzazione di un gioco di Harry Potter mai fatta vince comunque avrebbe vinto comunque a mani basse riguardo le precedenti produzioni perché erano molto vecchie qua in altra stanza vedete che porta dentro delle scale nella minimappa ma questa me la guarderò con calma ed è incredibile come questa scuola sia talmente immensa talmente grossa ogni parte esplorabile là dove punto il dentro è esplorabile anche il sottotetto lì sopra ci sono stato è tutto esplorabile tutto esplorabile e mi domando gli studenti che due palle camminare tutte le volte per raggiungere l'aula perché poi imparerete dove sono le varie aule quindi poi vi viene voglia ad esempio aspettando che non so vi si riproducano gli animali piuttosto che vi crescano le piante non avete voglia di spolparvi ancora la storia principale non volete andare troppo avanti vi mettete a esplorare ed esplorare ce n'è ce n'è ovviamente come ho detto l'equipaggiamento trovate qualcosa di più bello certo dopo un po' magari ci fate meno caso però può esservi utile qualche ricettina per oggettini nuovi per la decorazione della casa e qualche abilità nuova da poter imprimere i vostri oggetti questo ve lo dico perché non è male come idea però magari vi dà a voi stessi un'idea se il gioco può far per voi o meno se avete dei dubbi ma assolutamente calcolando che il team che ha realizzato questo titolo non ha l'esperienza di chi ha fatto grossi triple A la risa è assolutamente sorprendente e si vedono si vede un amore veramente pazzesco per per questo mondo ecco queste sono le mie le cose che mi sono piaciuto non abbiamo parlato di di tanto insomma vi ho detto solo che le le cose sono tante da fare ad esempio qua ci sono le gare di scopa ci sono le classifiche con i migliori tempi e voi potete tentare di batterli passando all'interno degli anelli in giro per il mondo ecco un'altra attività secondaria da fare oltre alle bocce fatte con la magia con accio quindi ecco di cose da fare ce ne sono insomma mi rendo conto che ecco forse la storia in una 30-35 ore finisce se volete fare tutto secondo me almeno 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 se non guardate spoiler se volete far tutto per conto vostro dalle 60 ore in poi vi richiederà quindi io me lo sto giocando nonostante tutto quindi se avete pensato che io avessi mollato il gioco dopo il video di critiche no assolutamente no io lo sto continuando e mi sta piacendo vado avanti pian piano dico oggi stasera vado avanti faccio un'altra principale vado avanti mi porto in pari con le secondarie poi il giorno dopo faccio la principale pian piano poi inevitabilmente il gioco lo finirò e lo terrò comunque installato perché voglio continuare il completazionismo io odio il completazionismo però questo gioco nonostante tutto me lo sta facendo piacere quindi vi do nuovamente la parola con i commenti qua sotto e fatemi sapere le vostre esperienze alla prossima e ciao ciao